Grazie Presidente, speravo che la notte portasse consiglio, ma credo che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Io parto dal presupposto che il parere contrario a quest'ordine del giorno sia veramente un'altra pagina buia di questo Governo rispetto ad una richiesta che avevamo fatto nel far scalare le graduatorie ovviamente del comparto sicurezza e del comparto soccorso per poter far accedere anche ai famosi 893 allievi di polizia che avevano rispetto al bando di concorso partecipato ed erano risultati idoni per poter supportare quello che in questo momento necessita al nostro Paese un rafforzamento nel presidio dei territori, nell'assistenza ai cittadini a seguito di una pandemia ancora in essere ma soprattutto anche per i rischi che dicevamo ieri in tarda serata, quei rischi che vedono aziende in questo momento colpite dall'usura, colpite dalla malavita. Abbiamo visto incendi in tante aziende italiane che si stanno verificando di natura dolosa. Io credo che questo Governo abbia scelto da che parte stare. Stare dalla parte ovviamente degli immigrati clandestini, stare dalla parte di chi deve occupare qualche poltrona più comoda rispetto a quella del passato. Oggi, a distanza di due anni dal nostro insediamento, dove tante sono le sollecitazioni fatte anche dal collega De Idda rispetto alle famose interrogazioni che non trovano mai risposta da parte del Governo, riceve un'importante telefonata di un collaboratore, di un sottosegretario che si preoccupa di un'interrogazione portata avanti da Fratelli d'Italia, risposta scritta sulla nomina di qualcuno che era il collaboratore più stretto di un ex sottosegretario e anzi di un ex ministro e che oggi è stato nominato per la modica cifra di 250 mila euro, chiedendo una rettifica, rettifica che purtroppo non possiamo fare perché altrimenti dovremmo attestare che il curriculum postato da questo tecnico nominato non risponde alla verità. Questo soltanto per far capire che veniamo chiamati nel momento in cui non ci sono risposte da dare al Paese ma risposte da dare a coloro che parlavano della casta. Oggi io credo che tutti gli uomini e le donne in divisa sanno perfettamente che questo Governo intende riempirsi la bocca e sostenere le forze dell'ordine, le forze armate, le forze di soccorso purtroppo soltanto nelle commemorazioni. Noi da sempre riteniamo che ci debbano essere delle regole, dei valori, ma soprattutto che ci debba essere una parola chiara. La ministra aveva detto con grande chiarezza che non c'era in questo momento la possibilità di adempiere a nuovi concorsi e aveva detto che probabilmente sarebbe stata la strada giusta quella di far scalare le varie graduatorie. Oggi nel confermare il parere contrario a quest'ordine del giorno credo che sia chiaro a tutti che cosa volete fare di questo Paese. Chiudo dicendo sinceramente e dispiace molto, è un grande ramaico, che non mi sento afflitta più di tanto perché vedendo i famosi pareri favorevoli con rimodulazione io mi chiedo quanto tempo avete per decidere su un emendamento, su un ordine del giorno, sul parere che volete esprimere. Avete tentato anche oggi, maldestramente, dando qualche parere favorevole a condizione di farci stare zitti. Ma, fratelli d'Italia, non si piega rispetto ad un ordine del giorno che alla fine non avrebbe nessuna sostanza perché non avete mai onorato nessun impegno, neanche rispetto ai tanti, e devo dire, lo sottolineo, tanti pareri favorevoli. Noi andremo avanti, come sempre, a schiena dritta, a testa alta, dicendo e facendo le cose che abbiamo sempre pensato di dover fare. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Prisco. Prego. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente per sollecitare anche in questo caso il ripensamento dal parte del Governo sull'ordine del giorno della collega Ferro, mio e di altri deputati di Fratelli d'Italia. Perché di fatto, votando contro questo ordine del giorno e con un parere negativo, si certifica la volontà da parte della maggioranza del Governo di non assumere per quest'anno e probabilmente per il prossimo nessun componente delle forze dell'ordine e delle forze armate. Perché i decreti ad oggi vigenti prevedono l'impossibilità di svolgere procedure concorzuali e di svolgere selezioni sulle idoneità. Scegliere di non assumere coloro i quali sono già, per varie casistiche che sono riportate nell'ordine del giorno, idonei ad essere assunti, significa lasciare le nostre città sguarnite dal presidio di sicurezza che le forze dell'ordine che hanno necessità di ricambio generazionale chiedono e che i nostri cittadini ci implorano per rispondere a delle esigenze di sicurezza che emergono nelle strade e nelle piazze delle nostre città. Grazie. Onorevole De Idda. Grazie Presidente. Grazie per orare la causa di questo ordine del giorno che viene spinto da decine, centinaia di ragazzi che aspettano risposta in grado attoria, che sono ferme o che sono state modificate. Ieri sono incominciati in Consiglio di Stato anche a dare i pareri, il giudizio di merito su quel famoso 455 che in questi giorni potevano essere a decorsi di allievi di polizia e che purtroppo non sono stati ancora chiamati. Bisogna ricordarli. Bisogna ricordare quelli della riserva militare, di quel famoso concorso che non sono stati mai chiamati. Allora non capiamo perché il Governo boci questo ordine del giorno quando ci sono tante gradatorie che potrebbero essere messe a scorrimento e dare nuovo ossigeno alle forze dell'ordine e delle forze armate. Se nessun altro chiede di intervenire...